Ciao ragazze, eccomi tornato in un nuovo video. Oggi ho deciso di aprire l'ultimo giveaway del 2016 anche perché questo sarà l'ultimo video del 2016 che andrà online sul mio canale, l'ultimo video dell'anno e quindi ho deciso di chiuderlo in bellezza ovvero aprendo un giveaway. Ho deciso di mettere in palio questa scatolina deliziosa di Puro Bio assomiglia alle scatoline che ho messo in palio nei giveaway precedenti questa è un pochettino più grandicella e in realtà all'interno di questa scatola c'erano soltanto due prodotti di Puro Bio io ho deciso di aggiungere qualcos'altro per rendere la scatola un po' più ricca vediamo subito cosa c'è all'interno e cosa vincerà una di voi allora, l'interno come sempre è fatto nello stesso e in identico modo delle scatoline dei vecchi giveaway ovvero con questi coriandolini neri molto molto carini per riempire un po' di più la scatolina poi all'interno della scatola c'è questo rossetto di Puro Bio nella colorazione 07 tra tutti i rossetti di questa collezione questo è sicuramente il mio rossetto preferito è un rosso, il classico rossetto rosso sono dei rossetti non completamente matte tendono a diventare semi matte nel corso delle ore quindi una volta appena applicato resta leggermente lucido poi nel corso delle ore tende a diventare un pochettino più opaco però ecco non è un rossetto completamente opaco è un colore veramente molto bello è il classico rosso e mi piace molto quindi come primo pensierino ho deciso di inserire questo rossettino che fa sempre parte di Puro Bio ovviamente non ve li faccio vedere, non ve li suocio perché non voglio assolutamente rovinarli non voglio toccarli quindi vi li faccio vedere soltanto più da vicino quindi il primo pensierino è questo poi un altro prodotto che c'è all'interno della scatola è sempre un altro rossetto questo non ricordo il colore aspettate che lo apro è un rossetto che mi era arrivato in una box della Lip Monthly io ho deciso di inserirlo in questo giveaway la confezione è tutta nera e il rossetto è un fantastico rossetto nude è un colore non troppo scuro ma neanche troppo chiaro è uno di quei nude molto simili al colore delle labbra o perlomeno al colore delle mie labbra sarà che a me questi colori piacciono veramente molto quindi ho pensato di inserire un rossetto nude che si porta sempre tutto l'anno e si indossa volentieri quindi ho deciso di inserire questo c'è poi una matita per le labbra questa matita è di un fantastico colore orchidea veramente un colore bellissimo poi sempre per le labbra l'ultimo prodotto per quanto riguarda le labbra contenuti in questa box è questo Lip Gloss della Cargo Cargo Cosmetics è un Lip Gloss Shimmer quindi classici luci da labbra questa è la confezione ed è un luci da labbra rosato un rosa molto molto chiaro shimmer quindi è un gloss lucido come tutti i gloss ovviamente per quanto riguarda gli occhi invece c'è questa matita di Puro Bio nella colorazione 02 questa è la classica matita bianca è una matita color burro io questa ce l'ho e la utilizzo sia come matita appunto sugli occhi ma anche l'applico anche sulle sotto la carta sopraccigliare per illuminare lo sguardo è una matita veramente ottima veramente molto molto buona e poi l'ultimo prodotto contenuto all'interno di questa scatolina è il mascara sempre di Puro Bio questo è il nuovo mascara LAM di appunto di Puro Bio io l'ho già provato è un mascara da tutti i giorni non è il classico mascara da ciglia finte ciglia drammatiche no è un mascara che si può indossare tutti e tutti i giorni anche per andare a lavoro per andare a scuola perché è veramente molto molto naturale quindi se vi piace l'effetto ciglia naturali questo sicuramente è un mascara che fa il caso vostro e quindi ho deciso di inserire anche questo e niente quindi questi sono tutti prodotti sono 2, 4, 6 prodotti che potete vincere per partecipare al giveaway le regole sono sempre le stesse sono veramente semplicissime ovvero dovete essere iscritti al canale lasciare un like sotto questo video e lasciare un commento sempre sotto questo video il giveaway si apre oggi ovvero venerdì 30 dicembre e terminerà aspettate che me lo sono segnata e terminerà venerdì 13 gennaio quindi nel video di venerdì 13 gennaio troverete sotto nell'info box il nome della vincitrice avete quindi due settimane di tempo per partecipare questo video è veramente molto molto veloce però ci teniamo veramente tantissimo come ultimo video del 2016 ad aprire un giveaway per premiare una di voi per ringraziarvi tutto dal profondo del mio cuore perché siete veramente sempre dolcissime carinissime mi scrivete delle cose veramente fantastiche siete troppo troppo dolci con me veramente e mi fa un sacco piacere e quindi ho pensato di regalarvi questa scatolina di regalare questa confezione una di voi mi fa veramente tantissimo piacere e in questo nuovo anno che verrà voglio fare più giveaway possibili per premiare insomma per ringraziare più spesso le mie iscritte perché comunque è grazie a voi se sono arrivata dove sono arrivata insomma ormai siete più di 25.000 e mi fa un sacco piacere non pensavo di raggiungere questo traguardo pensare che 25.000 persone mi seguono con affetto e costantemente veramente mi riempio il cuore di gioia sono veramente contentissima sono super soddisfatta e sono veramente 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 troppo troppo contenta e niente io spero che questo pensierino vi possa far piacere mi raccomando partecipate in tantissime al di voi vi mando un grosso bacione vi auguro un buon anno nuovo e noi ci vediamo qui nel gennaio con un nuovo video ciao ciao